Buongiorno, ben trovati appuntamento di martedì 28 giugno. Buongiorno, ben trovati appuntamento di martedì 28 giugno. Vescovo San Potino, morto in seguito alle percosse ricevute durante la persecuzione contro i cristiani. Pochi giorni prima delle sommosse anticristiane, Ireneo era stato inviato a Roma dal suo Vescovo per chiarire alcune questioni dottrinali. Tornato a Lione, appena sedata alla bufera, fu chiamato a succedere al Vescovo Martire. In una chiesa decimata dei suoi preti e di gran parte dei suoi fedeli si trovò a governare come unico Vescovo la chiesa dell'intera Gallia. Lui greco imparò le lingue dei barbari per evangelizzare le popolazioni celtiche e germaniche. E dove non arrivò la sua voce giunse la parola scritta. Nei suoi cinque libri contro le eresie traspare non solo il grande apologista ma anche il buon pastore preoccupato di qualche pecorella allo sbando che cerca di condurre all'ovile. Dunque Santireneo di Lione, vescovo e martire della chiesa cattolica. Ricordato oggi nella giornata del 28 giugno. Noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine come sempre del quotidiano Il Centro nelle sue quattro edizioni. Partiamo dall'edizione di Pescara per andare a vedere i titoli principali del giornale Oggi in Edicola. Vedete si parla ancora del mare di Pescara, clienti in fuga, balneatori in rivolta, fioccano disdette negli stabilimenti di Pescara. Padovano della Sib Commercio dice 25 anni di errori. E poi la fotonotizia che campeggia oggi su tutti i giornali. Morto Bud Spencer, Carlo Pedersoli, 86 anni, il gigante buono del cinema italiano. Era ricoverato da qualche giorno in un ospedale romano. Poi tornando alle cronache di casa nostra, siamo in Teramo, per meglio dire in provincia di Teramo a Pineto. Addio a Nicole tra lacrime e commozione. Ricorderete la bimba annegata tre giorni fa proprio nella cittadina riverasca. Ieri si sono tenuti i funerali a Udine dove viveva Nicole con i genitori. E poi Pescara, il dramma di una donna, ho rischiato di finire in mano agli usuraici questo racconto, questa testimonianza di questa donna. E poi in Val Pescara, si parla dell'azienda Maiella e Morrone, i lavoratori non pagati vanno in tribunale. E poi, come anche oggi su tutti i giornali, ovviamente grande spazio all'impresa dell'Italia, Italia da urlo. Ora i tedeschi azzurri che hanno battuto e con merito ieri sera la Spagna. Con il risultato di 2 a 0, Italia che approda ai quarti, dove se la vedrà con la Germania. Vediamo le altre edizioni del quotidiano Il Centro. Dopo aver visto quella di Pescara, siamo all'edizione di Chieti, Lanciano, Basto. Per vedere anche in questo caso quali sono gli argomenti trattati nella prima pagina, nell'edizione teatina del Centro. Tra qualche istante avremo ecco i titoli. Mare sporco sul Lido di Ombrina, dunque come nell'edizione di Pescara, anche in quella di Chieti si parla di mare. San Vito, segnalazioni nella zona antitrivelle, il sindaco, fenomeno naturale. E poi vediamo nelle cronache, giudizio sospeso sul fallimento di mister Porsche, Paglione in tribunale. Poi a Chieti, due molini dell'Alimonti, si dividono, asta deserta. E poi Costa Teatina, poche vongole, il Ministero apre il dossier. Lasciamo l'edizione di Chieti del Centro, andiamo a vedere l'edizione di Teramo e poi chiuderemo con l'edizione di Avezzano, L'Aquila e Sulmona. Vediamo l'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro. In questo caso si parla nel titolo principale di una storia sicuramente particolare, perché vedete il titolo a tutta pagina. L'Inail lo cerca, è morto da 41 anni, lettera per accertamento del 1976 al nipote che porta lo stesso nome. E poi in questo caso andiamo nelle cronache a Teramo, Teramo provincia, migranti liberi dopo la protesta in Questura. Poi Giulianova, malore in acqua, turista salvato dai bagnini. E poi ancora Teramo, unioni civili, lo stilista flocco, sposo l'uomo della mia vita. E chiudiamo con l'edizione, come vi dicevo, di L'Aquila, Avezzano, Sulmona del Centro. Poi andremo a dare un'occhiata veloce ai titoli dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola vediamo comunque l'edizione dell'Aquila del Centro. Chiesti 600 mila euro di danni alla ASL, siamo all'Aquila, l'azienda citata per la morte di un paziente scappato dal reparto. E poi turista aquilano salvato in mare dopo un malore a Giulianova, abbiamo visto anche dall'edizione di Teramo del Centro. Poi il giubileo aquilano, perdonanza Massimo Ranieri in concerto. E poi a Sulmona la Casa Santa riapre e ospita altri 25 profughi. Lasciamo dunque le edizioni del quotidiano Il Centro per andare a vedere insieme, lo faremo tra qualche istante, i titoli dei quotidiani nazionali, i principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola andremo a vedere dunque quali sono gli argomenti trattati proprio nella giornata di oggi dai principali giornali che sono in edicola proprio nella giornata di oggi del 28 giugno. Possiamo partire dal Corriere della Sera, Borse in caduta, Londra bocciata. Questo è il titolo di apertura, vertice fra i leader, nessuna pressione per i tempi della Brexit. Roma un superfondo per le banche e poi ovviamente il richiamo all'Italia. Vedete l'esultanza di Echiellini in primo piano, autore del primo dei due gol che hanno permesso all'Italia di battere la Spagna. Per 2 a 0, fantastica Italia, la Spagna si inchina. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Proseguiamo, siamo al Fatto Quotidiano. Eni, complotto anti-descalzi, pressioni sul giglio magico, misteri di Stato e PM di Siracusa. Sentiranno come testi Lotti, Carrai e Baci per questa vicenda che riguarda l'Eni. Poi in alto Brexit, l'Europa fretta ma Londra molto meno. Non ci sarà la dichiarazione di uscita nel prossimo Consiglio europeo da parte di Londra. Andiamo avanti, il giornale viene giù tutto, tranne Conte. Borse a picco, l'Unione Europea nel panico, non sa che fare. Ci consoliamo solo con il trionfo del nazionale. Vedete, a proposito di nazionale, Chiellini-Pellè, Spagna battuta 2 a 0. Siamo noi, azzurri, che podemos. Questo è il gioco nel titolo del giornale. E poi vediamo qualche altro titolo, sempre dal quotidiano il giornale. Comprate titoli di banche, i clienti di Serra vanno K.O. I consigli del finanziere del Premier, in questo articolo, di Nicola Porro. E poi un altro titolo che riguarda invece la denuncia di Marian Ismaul. Io islamica, lascio il PD che sta con gli intregare listi. E siamo al quotidiano, il manifesto, senza vie d'uscita. Questo è il titolo di apertura. Il vertice a tre di Berlino si chiude con un nulla di fatto. Hollande e Renzi spingono per l'uscita immediata di Londra dall'Unione Europea. Ma Merkel frena e lancia un asse con Londra, che chiede tempo per attuare la Brexit. Cameron sul Titanic. Labur nel caos e intanto nuovi crolli nelle borse. E tra le peggiori, ancora una volta, c'è Milano. E poi le elezioni in Spagna, che ci sono state domenica scorsa. Podemos si interroga sui motivi del fracasso. In questo caso si parla del risultato negativo del movimento, del partito di sinistra. Podemos in Spagna. Siamo al quotidiano il mattino. In alto, un'Italia da favola nel segno di Conte. Battuta la Spagna a 2 a 0. E poi Brexit, Merkel frena gli alleati sulla questione riguardante Londra. Proseguiamo. Siamo al secolo XIX, quotidiano di Genova. Mattarella, nuova Unione Europea. Fare presto. Il capo dello Stato risponde e chiede risposte urgenti su economia, migranti e sicurezza. E poi in alto, azzurri belli da impazzire. Spagna a casa. Siamo al quotidiano. Il tempo di Roma. Acqua a rischio contaminazione. Dossier shock dell'ARPA. Siamo ovviamente a Roma. Sostanze nocive infiltrate dai terreni adiacenti. Campi Rom. Non si escludono danni all'acqua vergine. Ma la CEA tranquillizza i romani. Poi il titolo che riguarda l'Italia. Podemos. L'Europeo l'Italia batte la Spagna. 2 a 0. Siamo all'unità. Un piano per l'Europa. La Serenzi Merkel Hollande può rianimare l'Unione Europea al centro crescita sociale e migranti. E anche in questo caso ci richiamo all'Italia. Siamo a Repubblica. Brexit e scudo bancario. Ecco le tre ipotesi allo studio del governo. E poi cuore e gioco. Vince la bella Italia per quanto riguarda gli europei. E poi ora il sud batte il nord-est. L'agricoltura spinge il PIL delle regioni del Mezzogiorno. Siamo al quotidiano libero così l'euro ci ha impoveriti. La moneta unica ci costa 2.300 euro a testa l'anno. Siamo stati più danneggiati dall'Unione Europea. Scrive Libero. E poi il calcio. In Europa stiamo bene solo con le pedate. Gli azzurri battono a sorpresa la Spagna. E poi gli islamici contro gli islamici di Mr Expo accusano Sara di avere con sé degli estremisti. E Libero era l'ultimo quotidiano di quelli nazionali che abbiamo visto oggi proprio nella nostra rassegna che riguarda proprio i quotidiani nazionali in edicola. Ora torniamo a vedere insieme se è possibile. Anzi andiamo a vedere insieme a proposito di sport visto che il titolo principale di oggi riguarda proprio gli azzurri che hanno battuto la Spagna per 2 a 0. Andiamo a vedere i titoli principali dei tre quotidiani sportivi che sono oggi in edicola. Partiamo dal Corriere dello Sport. Tic Italia. Schiantata la Spagna. Regina del Palleggio. Sabato la Germania. Campione del mondo. E poi si parla della favola islanda. Inglesi fuori. Via Oggson. E poi il mercato. Il Milan ha deciso. Prende Montella. Il Doriano favorito. Su Marco Giampaolo. Il caos panchina. Continua in casa rossonera. E poi invece si parla dell'Inter. C'è Gabriele Iesus per l'Inter cinese. Via al nuovo corso. Nerazzurro. Siamo alla Gazzetta dello Sport. Godemos. Questo è il titolo del quotidiano sportivo di Milano. Italia incontenibile. Sgretolata la Spagna. 2 a 0. E anche sulla Gazzetta dello Sport si parla del possibile e probabile arrivo. Di Montella al Milan. Aeroplanino. Milan, Montella e rossonero. C'è anche il via libera dei cinesi. E chiudiamo con tutto sport. Stesso titolo della Gazzetta dello Sport. Strepitosa Italia. Godemos. Chiellini Pelle. Dominata la Spagna. Ora la Germania. Nei quarti. Lasciamo anche i quotidiani sportivi. Oggi in edicola. Torniamo al centro. Per iniziare a vedere insieme i titoli che riguardano la cronaca regionale. Poi vi ricordo sempre intorno alle 7.20 il consueto appuntamento con il meteo e con il nostro Giovanni De Palma. Partiamo dalla cronaca regionale del centro. Cacciata ombrina. Resta il mare sporco. Decine di segnalazioni davanti alla spiaggia. Simbolo della lotta alle trivelle. Siamo a San Vito ed il sindaco di San Vito dice fenomeno naturale. E poi dalla costa sono sparite le vongole. Il caso al Ministero. È stato richiesto un dossier. Vedete in questo articolo. Poi cambiando argomento. Migranti. Presidi sotto le prefetture. Poi Civitella Alfedena. Gli operatori del CAI. Allezione di acqua, energia e clima. C'è l'inserto lavoro. Poi siamo già alla cronaca di Pescara. Allora andiamo a vedere dal messaggero. Anche in questo caso le pagine che riguardano la cronaca regionale. La giungla delle partecipate. Le SPA pubbliche sono 140. Troppe nonostante la legge che obbliga a sfoltire trasporti, acqua, rifiuti. Secondo il censimento del governo. Stipendi troppo alti e investimenti bassi. E poi pace fatta con i tifosi. L'Islanda riapre Facebook. Ricorderete lo scorso anno la polemica tra i tifosi del Pescara e la federazione islandese per la vicenda di Bjarnason. Oggi grande giocatore della nazionale islandese che ha eliminato tra l'altro ieri l'Inghilterra. E pace fatta proprio con i tifosi del Pescara che l'anno scorso avevano contestato proprio la decisione della federazione islandese di richiamare il giocatore proprio nella fase decisiva della stagione, ovvero dei play-off. E poi la ristrutturazione del palazzo. Fondazione Carispac. Siamo all'Aquila. Indagato Fanfani. Poi il treno veloce per Roma resta un sogno da Pescara e dalla Marsica. I collegamenti sempre problematici nonostante gli impegni. E poi Pescara all'orizzonte che cambia. il Ponte Nuovo e la Ruota. Vedete queste novità che riguardano il capoluogo adriatico. E poi vediamo la seconda pagina di cronaca regionale dal messaggero. Società partecipate. Abbiamo visto il richiamo in prima pagina. Una giungla in Abruzzo. Sono 140 pochi investimenti e troppe spese per il personale. 29% il valore medio è di quasi 6 milioni, meno di un terzo di quello italiano. E poi Avvocato chiede una perizia psicologica sull'Orsa Gemma per valutarne lo stress. E poi in basso Veronica Pivetti, Bennato e la Camusso, la festa nazionale di liberetà della CGL che si terrà all'Aquila. Torniamo al centro per iniziare a leggere le pagine provinciali. Partiamo da Pescara e parliamo della vicenda mare, la fuga dei villeggianti balneatori in rivolta. Fioccano le disdette negli stabilimenti di Pescara e del litorale metropolitano. Prezzi in picchiata fino al 30%, ma non bastano gli sconti per attirare i turisti. E poi vedete qui in alto del vecchio vice sindaco di Pescara, stop al divieto in via Galilei. Dimezziamo i costi per gli stabilimenti. E poi in basso il mare è pulito, ma la gente ha paura. stabilimenti con pochi bagnanti anche a Montesilvano. L'SOS della FIBA, presenze in calo del 30%, e poi una terapia con i batteri contro l'inquinamento. La tecnica utilizzata dalle società petrolifere nella bonifica di acque fondali potrebbe ripulire il laghetto della Pineta d'Avalos, ma anche fogne e depuratori. E poi a proposito di mare e di turismo, in Croazia con la SNAV dal 23 luglio. Dal primo aumenteranno i collegamenti giornalieri con l'idrovolante. Dunque a luglio si potrà da Pescara prendere il traghetto per andare in Croazia. Ancora cronaca di Pescara dal centro. C'è questa storia, questa testimonianza di questa donna. Io, obberata dei tanti debiti, non riuscivo più a vivere il dramma di una donna che non poteva più pagare bollette errate dei prestiti, è stata salvata da un finanziamento di 27 mila euro concesso dal fondo anti-usura. Poi ieri il Consiglio Comunale a Pescara in Comune arriva la stanza dedicata alle mamme. E poi ancora avanti un centro del risveglio in ricordo di Emanuela. si parla di un centro del risveglio per persone in Ecoma, proprio in ricordo di questa donna scomparsa di recente. Poi la vicenda dell'ex ferrotel di Pescara via libera all'ostello, sì, del Consiglio Comunale all'accordo che consente di realizzare una residenza per studenti. Proseguiamo. La famiglia De Forentis in lite per la targa blu contestato il riconoscimento di attività storica assegnato dal Comune. E poi in basso l'Anssemble 900 Lascia Pescara l'associazione musicale senza una sede costretta a trasferirsi a San Valentino. E poi la festa di San Cetteo tre giorni di musica e gang con Duccio festa di San Cetteo dunque la festa per quanto riguarda proprio la cattedrale di Pescara. E poi siamo ancora a Pescara e provincia in questo caso a San Valentino sbalzato fuori dal trattore paura per un pensionato e poi sempre a San Valentino poche ore prima un altro incidente con un 66enne che stava aggiustando il tetto della sua casa volato giù per tre metri fortunatamente è stato poi ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. E poi c'è la polemica su Attiva Teodoro Piernicola Teodoro consigliere comunale di Pescara dice la differenziata doveva crescere di più e poi si parla di parcheggi nuova area di risulta pochi i parcheggi le associazioni dei commercianti dubbiose sulle proposte del comune la CNA invece le promuove ancora avanti siamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana della bassa Valpescara colonie campus e terme rimborsi fino a 300 euro siamo a Francavilla via alle agevolazioni per le famiglie con bambini e anziani Buttari si appella ai cittadini il neoassessore pronti dice 5 bandi non ne perdete queste opportunità poi c'è pagati nuovo orario dei vigili ma è polemica proseguiamo siamo a Montesilvano De Martini vice sindaco dice nessun taglio di missioni strumentali il vice sindaco dopo l'addio della presidente dell'azienda speciale dice per il 2016 non ci saranno riduzioni nell'assistenza la Severini vuole fare la protagonista dice il vice sindaco De Martini se vedete De Martini e la Severini nelle due foto ancora Montesilvano lavori quasi finiti in Viadda partono altri due interventi poi in basso cambio della guardia per i Lions Crocetta nuovo presidente proseguiamo siamo alla cronaca di penne popoli Alta Valpescara stipendi non pagati in 40 fanno i decreti ingiuntivi Mariella e Morrone in crisi mancano tre giorni al licenziamento dei 59 dipendenti nuova beffa i pegnoramenti dei fornitori della casa di riposo di Serra bloccano i conti e poi vediamo in basso e a centro pagina un giorno con gli scavi aperti l'area arcologica della Valle Giubentina sarà visitabile di domenica le scoperte ad Abbatteggio siamo sempre in provincia di Pescara e poi il tesoro di Castiglione a Casauri alla Confcommercio dice l'abbazia non può restare chiusa e poi a penne l'ex sindaco D'Alfonso dice serve la delega allo sport vediamo poi a fondo pagina lo sport di Loreto Aprutino in lutto Loreto dà l'addio al ciclista Giovannetti infine Manoppello Iezzi bronzo nel piattello per la stella proprio di Manoppello allora siamo arrivati alla pagina di Chieti del centro sono 7.21 dobbiamo fermarci come sempre per la consueta pagina dedicata al meteo che apriamo come di consueto con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora Giovanni tempo un po' capriccioso questa mattina almeno così sembra di vedere ci sono un po' di nuvole fa anche freschetto rispetto forse a qualche mattina fa nei giorni scorsi anche fino a ieri c'è stata AFA comunque caldo tempo non ancora completamente stabile siamo alla fine di giugno siamo proprio ad inizio di settimana cosa ci dobbiamo attendere per le prossime ore ma Paolo intanto diciamo che si tratta di residuo e instabilità perché nei giorni scorsi avevamo annunciato il passaggio di un impulso di aria fresca che nella giornata di ieri ha favorito un deciso peggioramento soprattutto sulle vicine Marche e marginalmente nel Terramano dove i fenomeni sono stati anche di forte intensità ora l'aria fresca si sta rivestando verso le estreme regioni meridionali e quindi al mattino soprattutto al mattino in queste ore sono presenti saranno presenti degli addensamenti e non si escludono dei rovesci soprattutto lungo la fascia orientale e lungo le aree costiere rovesci che però poi lasceranno spazio al sole nel corso delle prossime ore soprattutto nella seconda parte della giornata perché insomma è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche miglioramento che si concretizzerà ancora di più nella giornata di domani a partire dalla giornata di domani perché è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione quindi alta pressione che almeno fino alla fine della settimana dovrebbe garantire condizioni di tempo stabile diciamo prevalentemente soleggiato con temperature sì in aumento però non sarà il caldo opprimente perché questa alta pressione non è l'anticiclone africano che ci porta il caldo intenso quindi è una fortuna avere questo tipo di tempo ci saranno giornate tipicamente estive nei prossimi giorni con valori abbastanza gradevoli durante le ore serali notturne e al primo mattino l'unica eccezione riguarda la giornata di giovedì e giovedì pomeriggio non si escludono formazioni temporalesche soprattutto sulle zone montuose in locale sconfinamento nel pomeriggio verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico questa è l'unica notizia da dare le temperature nelle prossime ore nella giornata odierna sono previste in lieve diminuzione soprattutto nei valori minimi ma poi da domani gradualmente torneranno a salire pur non raggiungendo picchi elevatissimi quindi è arrivata l'estate che manca ormai nel senso manca a diverso tempo perché non è mai iniziata perché l'instabilità l'ha fatta da padrona soprattutto in questo mese di giugno e non è l'anticiclone africano quello che ci porta il caldo opprimente quindi ben venga questo tipo di tempo azzurriano che personalmente gradisco molto di più rispetto a quando ci sono le rimonte dell'anticiclone africano Paolo bene grazie grazie Giovanni dunque arriva l'estate ma non ci sarà il caldo affoso opprimente che ovviamente crea problemi un po' a tutti io ringrazio Giovanni De Palma appuntamento sempre con Mattino 6 e con la pagina del meteo domani sempre la stessa ora grazie Giovanni buon lavoro buona giornata grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i spettatori di TV6 e dunque per restare aggiornati vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org eccolo qui inquadrato con tutte le notizie in tempo reale che riguardano proprio le previsioni del tempo l'evoluzione meteo della nostra regione vedete anche i live delle nostre province dei nostri capoluoghi e poi la pagina Facebook del nostro meteorologo altro utile strumento sempre per restare aggiornati con le previsioni del tempo che riguardano l'Abruzzo noi ci fermiamo per quanto riguarda il meteo torniamo ai nostri quotidiani prima di una breve pausa abbiamo il tempo per leggere qualche altra pagina dal quotidiano il centro siamo arrivati alla cronaca di Chieti proprio del quotidiano il centro giudizio sospeso sulla società di Paglione il re delle concessionarie Chieti caso mister Porci il tribunale fallimentare prende qualche giorno prima di esprimersi sul destino dell'auto in e poi Ortona delegazione della Coggevo a Roma Costa Chietina senza vongole il ministero avvia il dossier vedete nella foto i rappresentanti dell'Ortonese al ministero a Roma vedete anche il sottosegretario alla giunta regionale Camillo d'Alessandro e poi ancora cronaca di Chieti in questo caso Don Michelangelo è festa grande Chieti 50 anni di sacerdosio per il parroco di Sant'Agostino con una serata a sorpresa proprio per Don Michelangelo Tumini lasciamo la pagina di Chieti del centro siamo a quella dell'Aquila si parla del giubileo aquilano in questo caso perdonanza dei festeggiamenti proprio per la perdonanza il protagonista testimonial principale sarà Massimo Ranieri concerto infatti dell'artista napoletano marcia del creato torneo della pace e rassegna jazz tra gli appuntamenti più importanti per Donanza Aquilana sono 722 gli eventi come vedete anche da questo specchietto si partirà il 27 di agosto e poi la storia la bolla del perdono antico documento custodito scusate dal comune e poi si parla di sanità invece a fondo pagina fuga fatale dal reparto chiesti danni alla AS l'Aquila il paziente scappato dall'ospedale fu poi trovato morto le parti lese vogliono 600 mila euro allora noi possiamo fermarci per qualche attima poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 stavamo leggendo le pagine provinciali dal quotidiano il centro siamo alla pagina di Teramo il caso storie di burocrazia vedete il titolo a tutta pagina è morto da 41 anni ma non per l'INA l'istituto scrive una lettera per un accertamento del 1976 la riceve il nipote omonimo che il nonno non l'ha mai conosciuto vedete nella foto proprio questa lettera poi Giulia Nova Quilano in vacanza rischia di annegare poi in basso Pineto piange Nicola bandiere per il lutto la bimba annegata nel mare di Cerrano anche il sindaco ai funerali a Udine e in paese negozi chiusi l'ultimo saluto a questa la piccola Nicola questa bambina di quasi 6 anni morta a Pineto e nei giorni scorsi annegata in mare lasciamo la pagina di Teramo del centro possiamo andare a vedere ora il messaggero l'inserto Abruzzo avevamo già letto le pagine della cronaca regionale dunque ripartiamo dalla cronaca di Pescara dal messaggero consiglieri a letto salta l'ex ENAIP la maggioranza diserta la seduta della commissione finanze necessaria per presentare la delibera in consiglio comunale e poi le opposizioni fanno riscrivere l'atto sullo stello per studenti Antonelli di Forza Italia Sindaco e Giunta farebbero bene a dimettersi dice l'esponente di Forza Italia e a proposito di Forza Italia ieri c'è stato il consiglio comunale a Pescara e proprio Forza Italia è tornata a chiedere le dimissioni del sindaco di Pescara Marco Alessandrini lo ha fatto il consigliere comunale Fabrizio Rapposelli proprio a nome della minoranza di centrodestra Rapposelli ha parlato della vicenda del mare ma anche di alcune fibrillazioni che ci sarebbero nel centro-sinistra allora noi intanto andiamo ad ascoltare proprio a proposito delle fibrillazioni presunte nel centro-sinistra andiamo ad ascoltare il capogruppo in consiglio comunale del partito democratico Marco Presutti il centrodestra continua a chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini sostenendo che c'è una spaccatura anche all'interno della maggioranza nel partito democratico proprio sul destino del sindaco e anche sul futuro del sindaco di Pescara lei cosa risponde? il centrodestra evidentemente che sta all'opposizione vorrebbe avere una chance per mutare il verdetto degli elettori questo va benissimo detto questo non bisogna inventare la realtà l'amministrazione va avanti tutto il partito e lo ha ribadito nelle riunioni ufficiali degli organi l'assemblea provinciale l'assemblea cittadina che si è fatta venerdì esprime consenso e fiducia al sindaco e quindi mi pare che non ci sia questa questione i rumors però riferiscono di qualche voce discordante anche un possibile rimpasto di giunta potrebbe essere conseguenza di qualche malumore esiste la questione che c'è da tempo della questione della delega urbanistica che inizialmente il sindaco aveva riservato per sé anche per via del fatto che c'è stata una riduzione del numero degli assessori prima gli assessori in Comune di Pescara erano 14 siamo passati a 9 quindi nella costruzione dell'aggiunta diciamo per non appesentire le deleghe di alcuni assessori il sindaco aveva riservato per sé questa delega ora evidentemente forse è opportuno che si individui un assessore che si occupi di questa materia ma è una esigenza politico-amministrativa non è la conseguenza di fibrillazioni politichette insomma queste le dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Marco Presutti vi dicevo che Forza Italia è tornata a chiedere con forza le dimissioni del sindaco Alessandrini dunque andiamo ad ascoltare il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio Rapposelli centrodestra compatto nel chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini consigliere Rapposelli una richiesta che avete fatto nelle ultime ore che ribadite anche oggi in Consiglio Comunale ma io credo che sia un atto scontato e doveroso per noi chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini visto anche gli sviluppi che si stanno verificando in questi ultimi giorni un sindaco che purtroppo per lui ma che noi già avevamo denunciato da tantissimo tempo sta iniziando a perdere pezzi anche all'interno della maggioranza sta iniziando a perdere la fiducia non solo dei consiglieri comunali ma anche dei consiglieri regionali fino anche del governatore della regione Abruzzo un comune che sappiamo tutti quanti lo vediamo sotto gli occhi di tutti che è a pezzi il degrado della città oramai è all'ordine del giorno e i cittadini pescaresi veramente non ce la fanno più il mare sappiamo com'è inquinatissimo il turismo i dati rispetto a qualche giorno fa sembrano migliorati ma non è tanto una questione innanzitutto speriamo che i dati migliorino migliorino più che altro per i cittadini pescaresi per il turismo di Pescara e per il commercio e per i ballenatori tutti ma soprattutto quello che noi denunciamo è che oggi come oggi il sindaco deve fare un gesto elegante deve tornare sui suoi passi lui già lo doveva fare l'anno scorso già si doveva scusare con tutti quanti i cittadini pescaresi per quello che è successo l'anno scorso credo che oggi il sindaco veramente debba rassegnare le sue dimissioni e dare retta veramente a un consiglio che il nostro è veramente un consiglio perché sta perdendo anche la faccia per chiudere il discorso relativo proprio al consiglio comunale che si è tenuto ieri a Pescara è venuta fuori anche un'altra notizia che riguarda l'accesso agli atti richiesto da Forza Italia e dal capogruppo Marcello Antonelli sulla nomina del nuovo amministratore unico della società attiva dunque noi andiamo ad ascoltare proprio il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Marcello Antonelli che spiega il perché di questa richiesta di accesso agli atti Antonelli avete chiesto l'accesso agli atti per la nomina dell'amministratore unico della società attiva Massimo Papa perché? perché riteniamo che le procedure seguite dall'amministrazione non siano corrette semplicemente quindi non c'è nulla di personale ovviamente nei confronti del Dottor Papa su cui poi ci esprimeremo quando avrà assunto le funzioni eventualmente rispetto al lavoro che farà però le procedure seguite dal Comune di Pescara non sono né trasparenti né corrette avendo fatto riferimento a requisiti assolutamente di carattere generale probabilmente omettendo tutta una serie invece di requisiti richieste e requisiti che i pronunciamenti del Consiglio Comunale imponevano ma cosa ancora più grave è stata individuata una commissione per valutare i curriculum dei 15 candidati che avevano presentato domanda ora questa commissione ha prima visto i curricula e successivamente si è dato i criteri per l'attribuzione dei punteggi si capisce perfettamente che questo non è assolutamente corretto quell'attività andava svolta prima di prendere visione dei curricula perché qualche d'uno malintenzionato e cattivo potrebbe pensare che la cosa sia stata minimamente pilotata noi vogliamo che su questo si faccia chiarezza lo abbiamo chiesto al sindaco lo ha chiesto all'unanimità quindi compresi i consiglieri comunali di maggioranza la commissione di controllo e garanzia del comune di Pescara le risposte fornite sono assolutamente parziali e non esaustive rispetto ai requisiti posti l'accesso agli atti serve per avere a disposizione tutti i documenti e poi valutare se investire dalla questione l'autorità giudiziaria queste le parole del capogruppo al consiglio comunale di Forza Italia Marcello Antonelli a proposito di presunte fibrillazioni nel centro sinistra sulla giunta Alessandrini da Alfonso Alessandrini si parla di prove di riconciliazione vedete questa foto scattata in Israele dove il presidente della regione il sindaco di Pescara sono in visita per visitare appunto gli impianti di depurazione faccia a faccia scrive il messaggero per rilanciare l'azione politica andiamo avanti il ponte nuovo e la ruota cambiano l'orizzonte la campata sul fiume completata e l'attrazione che svetta l'ex cofa hanno modificato di colpo il paesaggio urbano e poi la cronaca auto a fuoco paura a Rancitelli conducente in salvo e poi premio camaiore dunque cultura Marianacci tra i finalisti il poeta pescarese Dante Marianacci vicepresidente tra l'altro del premio Flaiano tra i finalisti e menzione per la di Gregorio per Nicoletta di Gregorio il suo ultimo libro ancora cronaca di pescare dell'area metropolitana la prima afa colpisce gli anziani lunghe code attese a partire da sabato al pronto soccorso tra i giovani sono invece in aumento i traumi da attività sportive e poi risvegli dal coma nasce il centro in ricordo di Manuela Vera infermiera dell'ospedale di Pescara e poi la cronaca l'incidente vola da una tettoia grave in ospedale un 66enne poi a Montesilvano scuole l'estate dei cantieri lavori finiti in via Adda andiamo avanti siamo alla cronaca dell'Aquila dal messaggero perdonanza Massimo Ranieri testimonia l'abbiamo visto anche dal centro e poi l'iniziativa start up innovazione per il rilancio dell'occupazione nel capoluogo poi progetto case frazioni all'abbandono prendere i soldi dal nuovo decreto la proposta del segretario regionale dell'IDV De Santis che attacca il sindaco dell'Aquila Cialente poi caseater gizzi fondi non assegnati senza motivo proseguiamo fondazione Carispac per l'appalto della sede indagato Fanfani per il presidente un impiegato dello stesso ente il PM Ciccarelli ipotizza l'accusa di turbativa d'asta e poi un lavoro stabile grazie alla fondazione presentati i risultati del progetto triennale che ha coinvolto 100 borsisti e poi la cronaca Venezia presunte mazzette arrestato guerrato poi casa dello studente si allarga il fronte delle citazioni in sede civile l'udienza è stata aggiornata a gennaio del prossimo anno e poi scuola internazionale il sì in commissione questa è la novità che riguarda proprio la scuola internazionale dell'Aquila siamo alla pagina di Avezzano Sulmona Marsica dimenticata dalle ferrovie riparte la protesta contro i tempi di percorrenza sempre troppo lunghi per i collegamenti con Roma e Pescara ancora Avezzano non risponde ai giudici il novantenne arrestato con l'accusa di aver depositato ordini incendiari rudimentali davanti l'abitazione dove viveva la figlia e poi i volontari delle associazioni siamo a Celano e della Tecneco ripuliscono la città smaltite tre tonnellate di rifiuti e siamo a Sulmona bilancio e corsa contro il tempo per evitare il commissariamento la nuova giunta costretta ad affrontare il tema decisivo è sempre a Sulmona 81enne assolta dall'accusa di molestie siamo alla pagina di Chieti si parla di politica del rendiconto che passa in Consiglio Comunale ma c'è l'insidia del patto di stabilità l'assessore Luise parla di inversione di tendenza pur confermando criticità legate alla gestione del debito e poi parola al giudice sul futuro di Paglione stabilimenti Alimonti nessuna offerta due storiche realtà abruzzesi sperano nel salvataggio procedura di autofallimento per la auto in e poi in basso vedete concerto al pub in difesa degli imprenditori nel Mirino si parla di questa iniziativa note di solidarietà e poi il consigliere regionale di Forza Italia Febbo sui fondi Alciapi un aiuto ai dipendenti siamo la pagina di Lanciano Vasto e Ortona opera in ritardo porto penalizzato gli operatori portuali siamo ad Ortona alzano la voce scarsa manutenzione e dragaggio in stand by mettono fuori uso le strutture a Lanciano Mare Sporco in questo caso a San Vito scontro tra Comini e la NSC poi a Vasto passerella per Adriana Volpe che incorona la Miss ancora Lanciano Paolucci l'amarezza c'è ora avanti con il gruppo l'alleata di D'Amico dopo la sconfitta al ballottaggio dice forse qualcuno si è tirato indietro ma non i miei e intanto il sindaco Pupillo festeggia in piazza il successo elettorale e ufficializza la nuova giunta siamo a Vasto auto contro moto la festa azzurra giovane finisce contro un palo ricoverato in ospedale poi a San Salvo schianto alla rotatoria estratto vivo per miracolo e siamo alla pagina di Teramo l'università di Teramo quarta in Italia tra i piccoli atenei tutti i dettagli della classifica del census il fiore all'occhiello e la facoltà di medicina veterinaria la mancanza di una casa dello studente si fa sentire ma si attendono novità e poi in basso l'allarme di Di Sabatino a rischio molti servizi parla il presidente della provincia e poi l'istituto zoo profilattico ha approvato il bilancio nel mirino alcune missioni e siamo alla pagina della provincia di Teramo partiamo da Giulia Nova mare innesima giornata da incubo un bambino si punge con una siringa lasciata da un tossico mentre gioca con gli amichetti la denuncia di un noto pediatra e poi salvo per un miracolo un aquilano di 41 anni colto in acqua da un attacco epilettico ancora Giulia Nova bilancio di previsione proseguono le polemiche poi i turni di notte dei vigili nessun evento a rischio e siamo a Roseto le spine del neosindaco di Girolamo giunta ancora in alto mare e poi Tortoreto parcheggio selvaggio sul lungomare in Val Vibrata giro di vite sulla statale 16 multate altre prostitute infine Alba Adriatica passeggiata primo blitz anti abusivi e siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere insieme però il quotidiano la città di Teramo per andare a seguire insieme a vedere insieme quali sono i titoli principali nell'edizione di oggi del quotidiano la città partiamo in questo caso ovviamente dalla prima pagina eccola qui bimba lasciata sola in auto i carabinieri la trovano che passeggia sul lungomare alle 4 del mattino e poi uniti dal dolore anche il sindaco di Pineto Robert Verrocchio ai funerali di Nicole Tonutti i funerali che si sono tenuti ad Udine andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città partiamo dalla cronaca regionale mare sporco a San Vito e terrorismo gli ambientalisti denunciano acqua in condizioni indecenti per l'assessore solo allarmismo ma convoca l'arta e poi il corso gli operatori del CAI a scuola di tutela ambientale in basso si parla di sociale perdono il lavoro e anche il permesso di soggiorno sindacati oggi in piazza per manifestare a favore dei diritti dei migranti andiamo avanti primo piano genitori sciagurati bimba lasciata sola in macchina a tre anni passeggiava sul lungomare in piena notte è accaduto a San Benedetto del Tronto proseguiamo ancora siamo a Teramo corso cantiere al limite con i saldi che incombono attesa per la decisione della soprintendenza sui reperti intanto gli scavi sono arrivati a largo San Matteo e poi via i corsi per gestire la crisi da indebitamento ordini forenzi Università di Teramo formeranno gli esperti in grado di aiutare famiglie e piccole imprese il voto d'autunno centro-destra sparigliato anche sul referendum siamo sempre a Teramo Gatti e di Dalmazio sono per il no NCD e Dodo per il sì nel mezzo tanti indecisi e qualche ni e poi l'accordo sulla sicurezza cambiando argomento soccorso acquatico i vigili del fuoco avranno un presidio fisso estivo a Roseto degli Abruzzi tornando alla politica in carico in regione per Rudy Di Stefano l'ex assessore entra tra i collaboratori del gruppo di Forza Italia andiamo ancora avanti pagina della provincia sempre dal quotidiano la città riprende la contesa sui rilasci del Vomano e nelle consorzio di Bonifica Nord chiedono di ridiscutere l'accordo del 2009 preteso dal comune di Pineto poi Campi sarà la fondazione marziale a gestire l'istituto aeronautico Farnese e poi in basso Castellalto a cordo SELPD il modello Castellalto funziona e può essere d'esempio pagina della Val Vibrata la bretella taglia fuori la Val Vibrata e il progetto dell'avanti 24 Basciano Roseto non piace perché isola la vallata intanto il tracciato della Pedemontana da e verso Teramo procede a rilento siamo ad Albadriatica multate 4 prostitute che adescavano clienti a Martinsicuro Albadriatica venditori abusivi sul lungomare sequestrati centinaia di occhiali taroccati e poi Nereto San Martino riaperta al culto dopo i danni del sisma ancora avanti Giulianova Mosciano siamo alla pagina che riguarda proprio la cittadina adriatica bimbo ferito da una siringa in spiaggia giocava nella zona libera sud del porto e poi ripulito e ridipinto il sottopasso di via Nazario Sauro sempre Giulianova anche Giulianova aderisce alla stazione unica appaltante infine il traguardo l'ambito traguardo Luisa Terzilli unica giuliese campionessa italiana di pesi nei campionati del 2016 proseguiamo con la cronaca della provincia di Teramo siamo a Pineto Pineto e Udine accomunate dal dolore per la scomparsa della piccola Nicola il sindaco Verrocchio ieri in terra friulana ai funerali della bimba annegata nella zona della torre di Cerrano e poi ancora Pineto prostituzione minorile latitante romena arrestata dopo dieci anni in Italia e poi a Roseto torna la seconda edizione della fiera del fitness dal 7 al 10 luglio e poi cronaca ancora da Roseto degli Abruzzi 6 migranti arrestati per aver rifiutato l'identificazione siamo alla pagina della cultura Falcone protagonista di Overland Giovanni Granati porta l'Abruzzo nel documentario americano sull'arte della falconeria siamo arrivati alla pagina dello sport si parla ovviamente sul quotidiano la città del Teramo Teramo che puntella la difesa con Altobelli il centrale difensivo preso dal Pescara contratto triennale oggi attesa la firma del capitano Ivan Speranza andiamo a vedere nel prossimo servizio proprio il punto della situazione in casa Teramo prosegue il giugno a due marce per le abruzzesi di Lega Pro se il Teramo è nel pieno dell'allestimento dell'organico la Virtus Lanciano è ancora alle prese con la strutturazione dell'organigramma societario nelle prossime ore si definirà l'interruzione del rapporto con il DS Luca Leone che è già all'opera per la sua nuova squadra il Pescara solo successivamente si provvederà alla nomina di Claude di Meno di Bucchianico a direttore sportivo anche se il ruolo più operativo lo avrà l'agente Matteo Materazzi il fratello del campione del mondo Marco e figlio dell'allenatore Giuseppe sarà consulente di mercato ma anche egli è già all'opera ed ha consigliato due nomi alla famiglia Maio in cima alla lista c'è Pippo Pancaro reduce dalle esperienze sempre in Lega Pro alla Juve Stabia e al Catania dagli etnei è stato esonerato lo scorso mese di marzo il secondo nome è quello di Enrico Chiesa l'ex attaccante ha iniziato in Abruzzo la sua brillante carriera colonistica con Teramo e Chieti e potrebbe iniziare in Abruzzo anche l'attività di allenatore dopo alcune stagioni con la primavera della Sampdoria nel ruolo di direttore generale ci sarà Michele Lascala già uomo marketing al di là di tutto si aspettano ulteriori segnali dalla proprietà nella settimana che dovrà portare all'iscrizione al prossimo campionato sul fronte Teramo sono quattro gli innesti già ufficializzati i centrocampisti Carlo Ilari e Federico Carraro l'attaccante Antonio Croce e proprio questa mattina il difensore Mattia Altobelli classe 1995 dopo la stagione scorsa a Macerata il giocatore arriva a titolo definitivo dal Pescara e si lega al diavolo con un contratto triennale scadenza giugno 2019 spero di levarmi tante soddisfazioni io darò tanto per riagge sia per me che per la squadra e per la società in generale i nodi principali da sciogliere sono Tonti e Scipioni il portiere e il terzino sono reduci da un campionato tutt'altro che positivo i prossimi giorni saranno importanti per conoscere le reali intenzioni dei due calciatori su cui il Teramo potrebbe ancora puntare magari sfruttando la loro voglia di rivalsa intanto è caldo l'assa con il Pescara dal quale il Teramo potrebbe avere in prestito anche il difensore Francesco Carcalis innesto che darebbe la giusta completezza al pacchetto arretrato a disposizione di Zauli alla luce anche dell'imminente accordo con il capitano Ivan Speranza che sposerà nuovamente il progetto bianco-rosso per il reparto nevragico si attendono sviluppi per il regista Davide Peterman del Palermo lo scorso anno a Sant'Arcangelo per l'attacco Marco Sanzovini è più di una suggestione arriverebbe in prestito dal Pescara ma decisiva sarà la volontà del calciatore di non voler appendere gli scarpini al chiodo e continuare ad essere protagonista in campo nonostante le 36 primavere Siamo alle pagine dello sport del centro apriamo con il Pescara manovre Pescara Caprari e Verre c'è l'Inter uno dei due gioielli potrebbe entrare nell'operazione per prendere biraghi e poi in basso pace fatta tra i tifosi bianca-azzurri e l'Islanda la federazione islandese riapre la pagina Facebook agli italiani dopo la guerra Pescara Social in nome di Bjarnason ricorderete l'anno scorso ma quella di ieri è stata la giornata di Brian Cristante presentato alla stampa nel pomeriggio darò tutto per la salvezza mi ha convinto Oddo il giocatore Scuola Milan dunque è ufficialmente del Pescara vedete la foto nel momento della presentazione e della firma del contratto noi siamo andati ad ascoltare il neo bianca-azzurro vediamo e Brian Cristante il primo acquisto del Pescara ne ho promosso in Serie A il 21enne centrocampista Scuola Milan ma di proprietà del Benfica è arrivato questa mattina in città si è sottoposto alle rituali visite mediche e nel pomeriggio è stato presentato alla stampa emozionato ma convinto di poter dare il proprio contributo alla causa bianca-azzurra non è sempre la cosa più facile credere in un giovane devo ringraziarli insomma per aver creduto da me che aver creduto in me e adesso sta solamente a me come ho già detto di dimostrare le mie qualità e il mio valore adesso il mio obiettivo è venire qui e giocare il più possibile e far vedere quello che valga cosa sai del Pescara e di Pescara so che mi hanno parlato tutti benissimo hanno parlato tutti che è una città di cui ti innamori che tanti alla fine dell'esperienza a Pescara decidono di restare qui adesso spero di godermela nel migliore dei modi può essere questa la stagione per il definitivo salto in avanti per te sì sicuramente devo trovare spazio giocare pescare una piazza insomma l'ha già fatto vedere che può far esplodere dei giocatori giovani come me Milan e Benfica due squadre nate per di solito giocare e vincere i campionati arrivi in una squadra che in Serie A dovrà lottare per salvarsi metteremo tutto tutti anche io particolarmente tutto me stesso insomma è quello che ho bisogno di trovare una squadra dove devi trovare minuti e fiducia un saluto a tutti i tifosi del Pescara che cosa ti vuoi un saluto a tutti i tifosi e prometto insomma il 100% dell'impegno e la massima professionalità cioè ti hai già scelto il numero di maglia così giusto una curiosità se c'è se c'è il 24 non so se c'è se non c'è disponibile o no come vuoi essere arrivato il 24 per Kobe Bryant insomma mi piace il basket mi piace l'NBA era il mio giocatore preferito Bocca al lupo a Brian Cristante per questa nuova avventura con la maglia del Pescara a proposito di Pescara oggi giornata importante sul fronte mercato dirigenti Biancazzurri saranno a Milano per incontrare il procuratore dell'albanese il difensore albanese Ajeti per chiudere anche l'accordo con il portiere Bizzarri che dovrebbe trasferirsi in Riva all'Adriatico il 39enne estremo difensore che lo scorso anno ha giocato con il Chievo parliamo anche di Lega Pro sempre dalle pagine del centro Altobelli con il Teramo per tre anni abbiamo ascoltato e visto il servizio qualche istante fa e poi Lanciano pronto per la Lega Pro stipendi e contributi pagati ora inizia il lavoro di ricostruzione proseguiamo Messi un amore mai nato Argentina mi fermo qui si parla ovviamente di calcio internazionale dell'addio di Messi alla nazionale e poi Milan il nuovo obiettivo è Montella l'allenatore della Sampdoria in Polo dopo l'addio di Bro che a proposito di Milan Cristante che abbiamo ascoltato pochi secondi fa è un giocatore nato proprio nelle giovanili del Milan ancora sport che riguarda la nostra regione si parla dell'impresa rosa della pallanuoto Pescara l'original Marines che è stata promossa in Serie 1 dopo la vittoria dei playoff con la Florenzia e poi ciclismo trofeo Matteotti si punta a raggiungere 15 squadre sabato 16 luglio la presentazione del team azzurro per le Olimpiadi di Rio oggi pomeriggio al velodromo di Lanciano la Coppa Abruzzo di ciclismo su pista e chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero prima di salutarci come detto abbiamo visto il servizio sul Pescara sulla presentazione di Brian Cristante nuovo giocatore della formazione adriatico ovviamente c'è grande entusiasmo in Casa Bianca Azzurra alla vigilia di questo campionato di Serie A il sesto campionato di Serie A per il Pescara e a proposito di Pescara in settimana probabilmente venerdì ma non è ancora ufficiale sarà presentata la nuova campagna abbonamenti della società adriatica noi andiamo a vedere comunque le pagine come vi dicevo dello sport del messaggero per chiudere l'appuntamento di oggi con Mattino 6 Cristante è il mio anno questo è il titolo principale che campeggia in prima pagina il centrocapista ieri a Pescara per le visite mediche poi la presentazione lo abbiamo ascoltato intanto a proposito di mercato prende forma l'accordo con il Napoli per Verre Caprari e probabilmente anche Zampano i giocatori se dovessero finire in forza ai Partenope dovrebbero però restare a Pescara ancora per un anno e poi come vi dicevo oggi una possibile doppietta Bizzarri e Aieti dirigenti del Pescara che incontreranno a Milano il procuratore i procuratori del giocatore albanese che si è messo in mostra negli ultimi europei e poi Bizzarri per chiudere l'accordo andiamo ancora avanti si parla di motociclismo Iannone quinto posto io non mi accontento dice il motociclista che partecipa al Mondiale poi in alto calcio di serie di Morgia non decide l'Aquila pensa a Cappellacci Teramo oggi Speranza prolunga il contratto Altobelli firma e Ori Biancorossi aspettano il bomber abbiamo visto il servizio e poi vediamo Real Giulianova il tecnico sarà Vincenzo Angelone questa notizia importante che riguarda i giallorossi che ripartiranno dalla promozione poi pallannuoto Cianfrone il Pescara in A1 non ci speravo neanche io festa per la formazione pescarese femminile che dunque torna in serie A1 e poi ciclismo Viola si aggiudica notaresco il titolo regionale Juniores siamo così giunti al termine di mattino 6 di martedì 28 giugno grazie come sempre per la vostra cortese attenzione vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di TV6 alle ore 14 con la prima edizione del nostro telegiornale grazie e buon proseguimento di giornata per la vostra cortese e buon proseguimento per la vostra cortese 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 grazie a tutti